Benvenuto, è un piacere averti nostro ospite. La storia della medicina è una storia di sfide, di ricerca e di impegno. La medicina è parte della rivoluzione che ha trasformato le nostre vite. Oggi vogliamo mostrarti quanto le scoperte mediche hanno determinato il nostro percorso e soprattutto quanto l'innovazione tecnologica può migliorare la nostra qualità di vita, oggi e nel futuro. Questa è anche la storia di AB Medica. Eccellenza, qualità, innovazione, salute. Queste parole hanno caratterizzato la nostra attività fin dal 1984. Vogliamo festeggiare con te i nostri primi 30 anni di attività per renderti partecipe del nostro impegno. Chirurgia robotica, telemedicina, neuroscienze, genomica. Il futuro è già qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti.